C'è un'altra puntata di Dead Space No, no eh Oh, Gesù Dove sei? Ah, no, 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 ma non c'era Ah, miseria Santa Mi raccogliere le robe Ma veramente Farò un altro passo e mi uccideranno tutti quanti No? Mi sa Contoglio i saloni Vi giuro è una cosa Impossibile Si capisce subito che morirai Si capisce troppo presto che morirai Gesù Ok Mamma mia Mamma mia Questo Oh mio dio Non mi direi che li devo ascoltare veramente tutti No Non credo che lo farò Anche perché Non mi interessa sinceramente Speriamo che non mi attacca nessuno Vero? Bravi Ok Una chiesa che bello Oh santa madonna Ah Aia Va bene va bene Ora Sappiamo Quello che può succedere Taiman Ah quello che Allora Giriamoli Ah Uh Ma questo Taiman Ma chi è? Vabbè Wow Lughi sacri Daina La chiesa di unitologi Perché qui? È una zona della stazione Titan Taiman non può monitorare È una sessione tra chiesa e stato No Daina Non dovremmo essere qui Questo è l'ultimo posto dove stare ora Isaac Mio fratello è morto mentre cercava di salvarti Si tratta di una cosa importante Funzionerà Sono in una sala di sicurezza sul tetto della chiesa Ci vediamo lì ok? Mio dio ma quante sale ci sono In guardia John Wayne Prendiamo ste robe Ok Ok Con tutti questi cadaveri intorno Mi sembra che arriverà qualcosa che li farà risvegliare Tipo si farà questa scalinata Rossa No Oh Ah Grazie Ci siamo riusciti Ebbene sì Ma comprerò dopo Ora è impellente che io vi saluti Vi ringrazio per aver visto questa puntata Per essere stati pazienti ancora una volta con me Ne ho bisogno No seriamente Ci vediamo alla prossima puntata E Stay creepy Anche voi maschere di merda Anche voi Anche voi Anche voi Anche voi Anche voi Anche voi Anche voi